Musica La musica è per le strade, tra i palazzi, nei locali, nelle case La musica è dentro di te E adesso torna anche in tv Ciao a tutti amici di Urban Week Ben trovati anche questa settimana insieme Loro sono The Empire of the Sun e il brano si intitola Alive Quarta posizione Parliamo del mondo dell'hip hop e lo facciamo con Master of Ceremonies Naturalmente parliamo dei Daft Punk e la canzone è Get Lucky Io vi lascio al videoclip, noi ci vediamo prestissimo Ma andiamo alla nostra rubrica Parliamo di UrbanTube, parliamo di video virali Il nostro VJ Care all'opera per stupirvi tutti Ciao a tutti amici di Urban Week Ben trovati, Enrico vi dà un saluto Arrampicato tra i sedili del cinema in 5D Del cineteatro dedicato a Francesco Alliato Andiamo a scoprire l'ospite di oggi È il tramonto, Taormina ci saluta Chiudiamo questa puntata di Urban Week Vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima Perché si sceglie il villaggio turistico per l'animazione, per la piscina, per il mare o per il pompo? Venite con me e scopriamolo insieme, dai Chi si metta di mattina per i windi, mentre di notte partita, ce l'ho in geleni Che successo? Che cosa sta facendo? Ma chi è scappato? Ma dov'è il cellulare? No, assolutamente, mi deve dare il cellulare Ragazzi, mi chiamate la sicurezza Chi è scappato? Lei ha buttato le forbici L'ho vista con i miei occhi Ma scusi, ma lei prende delle forbici in mano Ma chi è uscito? Scusami Io no, io sto lavorando Ho visto che lei ha lanciato le forbici Hai visto qualcuno che scappava? Nessuno No, aspetta, aspetti un attimo Chiamate la sicurezza, dov'è il cellulare? Scusi, il cellulare qua lo scatole è aperto Le forbici ce le è a lei Ma qua c'è quel ragazzo che il tuo collega ha visto scappare Ma qua nessuno ha visto scappare nessuno C'è voglio dire, c'è un pubblico Scappava, e lui non l'ha visto Mi ha detto, mi viene per favore le forbici C'è scappato Ma guardi, lei è stato uno scherzo Come vede ci sono delle mie camere La sposta che la sarò